Bene, questa sera siamo qui con il nostro capitano della CDC, Papa Rossana, che rientra con l'infortunio. Eh già, rientro dopo un mese e mezzo di fermo, sarà la mia prima partita di nuovo in CDC. Sono molto positiva per quanto riguarda sia il gruppo che me stessa. Secondo me abbiamo lavorato bene durante la settimana, anche oggi l'allenamento, e vediamo cosa faremo durante la partita. Bene, abbiamo ultimato, diciamo, il giorno di andata. In 12 partite siamo usciti a fare la palestra di 12 punti, un punto alla partita. Siamo praticamente con lo stesso punteggio del Montecchio, la squadra che incontreremo il sabato prossimo, con la quale all'andata abbiamo perso 3-0. Viene con un punteggio 25-21, 25-23 e 26-24. Ritieni che dopo un giorno nell'andata noi possiamo riguardare questo risultato? Sì, ritengo che possiamo vincere contro il Montecchio, anche perché non so se loro sono cresciute, ma adesso noi siamo cresciute, quindi credo che possiamo fare di meglio sia per quanto riguarda lo spirito in campo che la tecnica, perché ci avevano giocato tanti money out, abbiamo lavorato molto su questo fondamentale, quindi sono propositivo. Bene, infatti abbiamo notato che la Serie C tendenzialmente ha delle giocatici esperte, molto brave a ritardare il gruppo d'attacco e anche a ricercare le manine del nostro palanello. Sì, sicuramente. Esatto, e di altre ragazze, mentre noi cerchiamo sempre il campo. Ma c'è stata una caratteristica mandata che secondo me loro sono state più brave rispetto a noi, sono state molto più grintose, determinate, vogliose di portarsi a parte del risultato. Sì, sicuramente hanno vissuto questo confronto con noi come un vero derby, anche se noi chiaramente non abbiamo alcune ragazze della pari, ma siamo comunque una società di Flero, quindi la provincia di Brescia, per Bassa Bresciana. Pensi che riusciamo anche noi a sentire questa partita, visto che comunque giochiamo a Vienno, ci rendiamo a Vienno tutti i giovedì, come un derby con loro? Sì, ecco, loro hanno sentito questa partita molto d'andata, avevano molto pubblico e sicuramente ne avranno di più a Montecchio, nel loro parazzetto. Io credo che possiamo fare meglio di loro, meglio dell'andata, anche perché diciamo che c'è rimasta un po' qua, dal partito dell'andata, con tutto il loro pubblico che ci urlava contro così, quindi secondo me possiamo dare molto di più e possiamo vincere questa partita. Quindi ci attenderà sicuramente una partita molto intensa nella loro palestra e quindi io in bocca al lupo al tuo rientro. Grazie.